Le cedole librarie potranno essere utilizzate fino a settembre. A causa di un ritardo nella loro emissione, l'assessore alla scuola di istruzione Anna Maria Palmieri ha inoltrato infatti una richiesta formale al Ministero per ottenerne una proroga. L'autorizzazione consentirà di salvaguardare il diritto allo studio, in particolare per le famiglie in condizioni di maggiore disagio economico, e va incontro anche al momento di crisi del mercato librario. Con una delibera di giunta comunale è stata disposta la somma urgenza per i lavori di messa in sicurezza dei cornicioni e di un cortile interno dell'Istituto Luigi Vambitelli, in via Luca Giordano. Gli interventi sono già stati avviati e si concluderanno entro la metà del mese di giugno. Il Comune di Napoli ha chiuso due operazioni di swap, continuando l'opera di dismissione dei contratti di finanza derivata adottati dalle amministrazioni precedenti. Dopo gli allarmi lanciati dalla Corte dei Conti per la loro potenziale pericolosità per le finanze degli enti locali, e grazie alla congiuntura di mercato favorevole di questi giorni, i due contratti sono stati chiusi in positivo ed hanno portato nelle casse comunali oltre 500.000 euro, dopo aver già fruttato più di 7 milioni. Nel silenzio delle grotte di Tufo arriva la musica classica e la danza. Il tunnel borbonico, il percorso che andava da Palazzo Reale a Via Morelli, utilizzato poi come ricovero durante la Seconda Guerra Mondiale, vive una nuova vita portando in una delle tante viscere del sottosuolo napoletano le emozioni dell'arte. Sabato 14 aprile parte infatti la rassegna percorsi sensoriali, con un calendario di appuntamenti che si concluderà il 9 giugno, l'apertura con Johann Sebastian Bach, per proseguire poi con Pergolesi, Handel, Chopin e Mozart, senza dimenticare la tradizione napoletana, il teatro, la danza e la pittura.